Siamo arrabbiati perché innanzitutto nessuno ci ha contattato, nessuno ci ha chiamato, quando è successo tutto l'incendio nessuno ci ha chiamato, nessuno. Noi siamo venuti a conoscenza di una cosa del genere tramite un telepornale, ma dove esiste una cosa del genere? Dove esiste un numero di telefono, chiamare i familiari? Ma voi sapevate come erano le condizioni nell'RSA? Che andava tutto bene, che andava tutto bene nell'RSA, ma quando noi mettiamo una persona in un RSA, si spera che sia bene, non che succeda quello che è successo. Noi ora chiediamo solo giustizia, nient'altro. La sentivate? Sì, hai detto ci sono problemi, insomma erano... Assolutamente, mia nonna era una persona forte, sapeva nascondere anche i lati oscuri perché lei era una persona che stava sempre bene in RSA. Io voglio giustizia dalla RSA. Ma c'erano lati oscuri che non censurava, non capisseva nulla? Non sappiamo adesso che noi eravamo dei parenti esistenti e abbiamo scoperto che mia nonna è morta carbonizzata. Stop, lasciamo qui.